Ciao ragazzacci, io sono ilmc25 e ci siamo qui su minecraft Allora, mia sorella mi ha regalato questa spada, è una spada di minecraft fatta di legno Quindi è fighissima, è fighissima Ho deciso che di prendere spunto da questo suo regalo per fare un contro regalo E fare una struttura che ricordi questa spada Quindi la metto da parte e partiamo subito Allora, io ho pensato che questa zona qui del deserto, che tanto noi non utilizziamo Potrebbe essere una buona base, e comunque si vedrebbe quando poi andiamo nel portale del land Cioè, potrebbe essere buono, io direi di farlo qui Quindi togliamo qui questo primo cumulo di sabbia Che non sono neanche sicuro di volerlo togliere Però, sì, ormai lo sto togliendo, quindi lo tolgo Vorrei fare tipo una spada nella roccia Probabilmente qualcun altro già l'avrà fatta, io magari non lo conosco Sicuramente qualcuno l'ha fatta Anche su Real Power ha fatto tipo un piccone, una statua di piccone, una cosa del genere Io però volevo fare una, qui, una struttura, una spada nella roccia E piazzarla direttamente qua Allora, io direi che più o meno il centro potrebbe essere questo Quindi iniziamo a fare un contorno Farò un contorno non troppo, non troppo, come dire, regolare Perché comunque deve essere una cosa, una cosa, cioè, che non deve essere fatta dall'uomo Allora, mentre sono qui, ho notato che c'è uno zombie Sento rumore di zombie da queste parti Deve essere c'è uno zombie nascosto in qualche buchettino qua che mi darà solo fastidio Vabbè, comunque finché loro stanno nascosti a me non mi danno nessun problema Io direi di fare una cosa del genere Non la faccio troppo grande, perché comunque non mi va di farla troppo grande Però si può fare, io quasi quasi la farei alta a due E poi andrei a chiudere, quindi Vediamo di chiudere qua tutta questa cosa Arrivati qua, mettiamo un blocco d'appoggio Che tolgo subito, altrimenti poi non capisco più niente A me questo comunque, questo coso qui finché non vado in caverna mi dà solo fastidio Quando poi vado in caverna mi metto lo scudo Però al momento mi dà solo fastidissimo Cerchiamo di chiudere qua tutto quanto Perché dobbiamo fare una struttura, una roccia Quindi una specie di spada nella roccia Non sarà una spada nella roccia Ma più o meno vorrei richiamare una spada nella roccia Sì, non so quello che sto dicendo Tolgo tutti i blocchi inutili che ho messo per errore o per appoggio Quindi togliamoli tutti No, questo andava bene, andava, mannaggia, ho sbagliato Vabbè, comunque questo qui lo uso come entrata Dai, ci può stare perché lo uso come entrata Qui c'è un altro Che poi questi blocchi qui esterni potrei anche provare a lasciarli E farei altro uno Quasi quasi chiuderei Cioè andrei verso la chiusura Perché sennò esce troppo grande Allora, questa qui ci può stare Secondo me è abbastanza Magari sapete che faccio Qui dove ci sono questi qua troppo lunghi Magari aggiungo qualche blocco Sento un sacco di rumore di questi qua Ma qua potrei metterci uno slab Magari richiudo tutto quanto Perché sennò sembra troppo alto Cioè due è una cosa un po' innaturale Vedete qua, già mettendo qualche blocco così Per rifinire la cosa ci può stare Quindi sì dai La finisco così perché secondo me sta più Cioè più bellina Quindi qua chiudo, qua chiudo, qua Sì chiudo anche qua dai Quindi il blocco ci vuole così Per dare quell'idea Ci sta, ci sta Quindi secondo me è una bella stone Cosa voglio fare adesso? Voglio Perché voglio circondarla Qua sento un sacco di mob Non so dove stanno Vorrei circondarla con un Con un qualcosa di carino Cioè fare una specie di giardino Ecco Quindi scavo due blocchi di distanza Dalla struttura Per metterci poi l'acqua Allora qui ho tolto la terra Però la sabbia Questa è sabbia Come vedete c'era un buco Però la posso sempre terraformare io Cioè io posso fare delle modifiche Però devo lasciare tutto quanto Il più naturale possibile Qualcuno all'inizio criticava questa mia scelta Ma è una mia scelta Intanto sento degli zombie Non capisco dove stanno Ma mi stanno veramente a dare fastidio Quindi qua devo tipo terraformare il mondo Devo terraformare Quindi io metterei questa qui Poi lasciamo sempre due Perché comunque voglio fare una specie di canale Non lo so Una specie di struttura Che vada a chiudersi Quindi qua va bene Qua ho lasciato uno Quindi qua è un errore Questo lo cancelliamo Cerchiamo di chiudere qua Siete quanti zombie ci stanno Non capisco dove sono Però ci sono gli zombie qua Poi li andrò a eliminare Vediamo Quindi intanto suonano Perché ovviamente devono suonare sempre Qui Allora la struttura c'è Quindi c'è questa cosa qui Io intanto vado a piazzare questi altri blocchi Perché comunque non voglio che Venga fuori una struttura troppo Troppo che si veda Che sia fatta dall'uomo Cioè io voglio tipo Ma è stata una cosa scavata naturale O con l'intervento degli dèi Non lo so Quindi vado a chiudere qui E intanto sta arrivando la notte Credo proprio di sì E devo andare a dormire Altrimenti addio vita E arrivederci mondo Già una volta sono morto Visto che mi trovo a casa E che ho una crafting table disponibile Mi faccio anche una Un altro secchiello Perché? Perché comunque io Ho bisogno di un po' d'acqua E con due secchielli Riesci a fare una fonte infinita d'acqua E riesci a farti magari qualcosa di vicino Senza fare 100 km Dove c'ho la mia fonte? Una è questa E un'altra è questa Ok La fonte infinita d'acqua L'ho presa E ritorniamo lì Perché lì devo farci proprio Tutto il contorno d'acqua Ci sta benissimo Perché è tipo un oasi nel deserto Poi ecco adesso che penso all'oasi Mi verrebbe anche da metterci No Volevo metterci no Avevo pensato di metterci tipo del Come si chiamano? Del Degli alberi Però Forse dei cactus ci starebbero bene Quindi Scarichiamo l'acqua Ricarichiamo l'acqua E qua devo riempire Tutto devo riempire Ci vorrà un po' Ci vorrà Io credo che se la metto così Ho sbagliato Ok? Ovviamente dovevo sbagliare Perché basta mettere uno sì E uno no Perché adesso questa qui è fonte infinita d'acqua Vedete qua? Se voi la piazzate qui E non diventate matti Non diventate Quindi un altro la metto qui Poi un altro la metto qui Ed ci sarà un bel po' di cose da fare Magari provo a farne qualcuno Questa è fonte infinita d'acqua La fonte infinita d'acqua La riconoscete Perché è tipo più alta degli altri Non scorre Quindi fatemi un attimo Sistemare tutto Ok l'acqua è finita Quindi questa ci sta Adesso stavo pensando Allora intanto ricarichiamoci Questo qui è tutta acqua infinita Stavo pensando una cosa E io posso metterci delle foglie Degli alberi Perché comunque il ferro ce l'ho Posso farmi due cesoie Spennare un po' di alberi E sì Spennare un po' di alberi Non si può sentire Ma dove stanno? Forse sono qui Sapete che sono forse qui? Siete? Eh sì infatti Lo vedi là C'è un creeper Lo vedi? Qua c'è una È pieno di caverne Questa zona Questa zona qui sarà veramente difficile Intanto vi ringrazio per i commenti Che avete lasciato per lo slime Per la slime farm Qualcuno ancora non ha capito Che i slime block Possono nascere dovunque Dovunque Possono nascere fuori Dalla Dalla slumpland Quindi fuori dalle giungle Qualcuno ancora non l'ha capito Ma lo ripeto Non c'è un limite Al Alla nascita Dei cosi La come si chiamano Dei Degli slime block Allora Io prenderei tutte queste foglie Quindi prendiamo tutte queste foglie Ok Credo di avere abbastanza Ossia le acacia leaves Che le oak leaves Voglio vedere se danno un effetto diverso Magari Perché metto questa Fammi vedere con questa qui Allora Questa qui è un po' più scura Questa è un po' più verde Visto che deve essere un oasi Io quasi quasi Queste quelle ho perse Va bene Allora queste sono le oak Io metterei Il primo Allora le oak sono strane Le acacia invece sono Sono strane anche loro Forse dipende dal bioma in cui stanno Va bene Quindi mettiamo queste Queste qua Più o meno qui Come contorna quest'acqua Ovviamente ogni volta che le rompo così Le perdo Ma non fa niente Tanto È qualcosa che non mi serve Sento tantissimo Qualche mob qui Non riesco a capire Dove stanno Qui sotto c'è una caverna Super caverna Peraltro Quindi mettiamo qui questo Peraltro qui devo poi Illuminare tutto Devo illuminare Dovrei andare Vedete qua Ogni tanto sono di un colore Dipende secondo me Dal bioma in cui stanno Si vede che c'è un cambio di bioma Lì Non me ne sono accorto Allora Io farei tutto il contorno così Fammi vedere cosa esce A farlo così Secondo me è troppo Vedete qua Qua sono più marroncine E qua sono più verdi Secondo me Se io guardo Qua sono nel Non me lo dice Dov'è che c'è scritto Qui sono in beach E qui sono in deserto Quindi qua sono deserto Poi quando vado in beach Si cambia Lo potrei fare anche alto 2 Magari Oppure potrei farne un contorno Ribassato Tipo Messo così Perché così sembra che Le piante abbiano preso il sopravvento Sulla Sulla sabbia Ci potrebbe anche stare Quindi lo faccio un attimino Ci metterò 30 secondi Ma vediamo Peraltro qui devo farlo da 2 Perché qui è più basso Devo fare anche il contorno Perché deve sembrare Una cosa naturale Ricordatevi che io ci tengo tantissimo Che sembri naturale Mi piace che tutto sembri naturale Non fatto dall'uomo È una mia scelta E potete anche non condividerla Ma è sempre una mia scelta Ecco Già così Sembra tipo Un oasi nel deserto Arrivi nel deserto Dici Stoasi Sì è vicino a una zona Con tanti alberi Però è un oasi nel deserto Ci può stare Allora Questo c'è Quindi secondo me Vale la pena lasciarlo così Cosa andiamo a fare adesso Andiamo a fare la spada Dalla spada deve spuntare da questa roccia Adesso questo sarà un problema Perché io non è che sono bravissimo A fare queste cose Peraltro qui come faccio a uscire adesso Ok mi sono fatto un ponte di erbe Di foglie Per fare Per arrivare Per avere lo spazio per salire e scendere Senza problemi Perché cadrò sempre Lo so già Allora Per fare questa roccia Purtroppo questa è roccia Se io la faccio di roccia Si vede tantissimo Cioè non si vede la differenza Vado a casa a prendere qualche materiale Che mi sia utile nella costruzione Allora Sono qui che faccio dei test Ma secondo me non si può fare La stone ci sta bene No la stone bricks Però la stone non ci può stare Adesso diventerà tutta cobblestone Io quasi quasi la farei Con un materiale Anche di granito Che non rispecchia La spada fatta in minecraft Lo so non rispecchia Però ci può stare Perché comunque Spezza un po' È una spada tipo particolare Fatta in un modo particolare Non so da chi Tipo una spada di qualcuno Allora L'ho rifatta di nuovo Perché era troppo grande Se la facevo da tre Era troppo grande Invece così ci può stare Tipo una spada incantata Col sangue Delle persone uccise Che bella Che bella immagine Ah io quasi quasi Utilizzerei la netherrack Non deve essere una spada Di minecraft E lo ripeto Non deve essere proprio Una spada di minecraft Deve essere però qualcosa Che ricordi Che sia carina Io quasi quasi Lo farei di netherrack Qui Tipo la base Che va a fare Cioè quella che divide Il manico Dalla spada Secondo me si può fare Anche di netherrack Ci può stare Questo qui Era da Devo toglierne uno Uno due tre E qua potrei fare il manico Vado a vedere come si vede Perché è importante Vedere come si vede No È proprio sbagliata Così ho fatto qualche errore Nella figura Allora Metto una crafting table Qui Non so più dire crafting table E non lo riesco neanche più a dire Perché vorrei fare Delle scale Di legno Perché non riesco A chiudere bene la struttura Forse delle scale Possono darmi Quella chiusura Che mi manca Purtroppo Farla così piccola Non sempre Cioè una cosa piccola Non sempre ti aiuta Quindi A volte ti mette in difficoltà Una cosa più piccola Allora Come faccio a fare Queste scale Io ne potrei mettere Una qui che va così E un'altra qui La dovrei mettere sotto Quindi Fammi cadere un attimo Nell'acqua Porca miseria Potevo prendere l'acqua Un attimo Ho preso Ho preso proprio la terra Per farmi male Ovviamente sto Sprecando un sacco di cibo Perché cado ogni volta E muoio male Allora L'ho messa all'altezza Lì sopra E ci può stare Se io faccio Tutti i bordini Con Secondo me Con queste scale Ci possono stare Utilizziamo la sabbia Che tanto c'è No quanto ne voglio Di sabbia Vediamo un po' Sì solo che la sabbia C'ha un problema Se non ti poi Piazzi bene Mi sono messo troppo In là Quindi fammi mettere Un po' di sabbia Qui Cadi cadi Facciamoci una Forse la sabbia Non è il mezzo migliore Per farsi le scalette Perché la sabbia cade Quindi metto Questa qui Questa qui Non riuscirò mai Nella vita A metterla Quindi devo utilizzare Delle altre scale Ok Mettiamo un'altra scaletta Qui Se me la fa mettere Non me la fa mettere Perché ci sono io Ok Già così Se ne metto un'altra No lì è spada Dovrei metterne una Dall'altra parte Come faccio a scendere Fammi vedere un po' Allora Ve l'avevo detto Che non è la spada di minecraft E non è neanche quella Che mi ha regalato Mi sorella È una spada Tipo da samurai Senza protezione La spada di samurai Non riesco a fare di meglio Perché deve essere piccola E il problema È che deve essere piccola Tutti quanti fanno la costruzione La fanno da 5 in larghezza Invece la mia è da 3 Devo fare più piccolina Perché sennò poi stona con tutto il resto Allora Finiamo Finiamo quindi questa costruzione Qual è il tocco di classe Che voglio dare Qui dentro Intanto sta arrivando la notte Io qua lascerei Questo aperto Qui devo rompere Qui rompiamo Qui rompiamo sicuramente Poi peraltro andremo nel nether Una volta Andiamo prima a dormire Va Dicevo quindi Per finire Facciamo un'entrata segreta Che non è tantissimo segreta Perché si vede Di qua Dici che cos'è sto Sto un buco proprio qui Però io direi Di fare una cosa particolare Scaviamo qui in fondo Uno deve Quanto riesco a scavare in fondo No Guarda ci sto Tranquillo ci sto Purtroppo però Allora Io qui sono già dentro Allora fammi prendere un po' d'aria Perché non voglio morire come un pirla Devo coprire questa cosa Perché sennò si vedrebbe No però non si vede tantissimo Allora io scendo di qua Poi scavo ancora di un paio Fammi capire Quando sono dentro la struttura Un altro Devo scavare un altro blocco Un altro paio di blocchi Ok Puttana miseria Puttana E' pieno di mob qui dentro Scusatemi Maledizione a voi A vostre mamme A vostre sorelle A tutte le vostre famiglie E a chi non vi conosce Non avevate altro da fare Peraltro questo mi ammazza Guarda Mi ammazza male Fammi mangiare Maledizione a lui E alla mia del cavolo che c'ha Caspita Un creeper del corno Proprio doveva esserci Se non ci fosse Se non c'era il creeper Non eravamo contenti Eh Se non c'era il creeper Non eravamo contenti Se non c'era il creeper Quindi mettiamo delle torce Caspita Pure io che non metto le torce Sono un po' stupido Sono E' ovvio che qui dentro Ci venga lo schifo più totale Ecco dove erano i mob Che sentivo Però ne sento altri Quindi mettiamo delle torce qua E guarda Mi ha rotto tutto Mi ha rotto Mi ha rotto tutto Mi ha rotto sto schifoso A essere schifoso Che non sei altro Dammi della sabbia Schifosissimo Creeper del corno Adesso io non mi ricordo Com'era qui Però devo chiudere Tutti questi buchi Che si sono andati Ad aprire Cose che non si dovevano aprire Ma si sono aperti Quindi aspetta un attimo Che faccio questo piccolo procedimento Di terraformazione Maledetti creeper Guarda Io adesso capisco Perché li odiano tutti i creeper Si fanno odiare loro Allora Io dicevo Facciamo una cosa del genere Che uno dice Eh va bene Entro C'è un'entrata E qui Dov'è che si va Ah si va qui sotto Cosa c'è qui sotto Tipo Una caverna segreta Però fammi mettere un po' di torce Perché già lo so Che morirò male Dove sono le mie torce Non c'ho più torce Ah no Ecco le torce Quindi fatemi mettere un po' di torce qua E poi faccio una scaletta Per salire Perché comunque Devo salire qui sopra io Quindi Ok Lo vedi qua Guarda che figata Ok Mettiamo torce Spammiamo le torce Come un cane Robio Non so perché ho detto cane Però l'ho detto Allora Tutti quanti dicono Ma che è sta struttura Sta spada Che entra Non si capisce E niente Posso mettere finalmente Il mio cartello Questa è l'entrata segreta Per scrivere un messaggio Grazie Dani Ok Dani è il nome di mia sorella È il diminutivo però Quindi mettiamo questo Questo cartello qui Usciamo Ci ho messo tipo 40 minuti Per fare sta cosa Non sono bravo a fare ste cose E non è finita E questo è il problema Non è finita Quindi non tutti possono entrare di qua Perché uno viene La guarda Fammi togliere anche questa Questa crafting table Uno la guarda Dice Ah bella questa spada Non si nota Quell'entrata Magari se la mettevo da dietro Non si nota Cioè magari non la mettevo Da questa parte Uno ci arriva fin qua Qua si nota un po' però Allora fammi mettere un po' di sabbia Per non far notarla Questo blocco è di troppo Questo blocco è di troppo Io metto quello lì Non si nota Uno arriva qui Non Si nota Si nota perché lo sappiamo Però uno arriva qui Dice Ah una spada Una spada Sembra una katana Sembra una katana Sembra eh Non è una katana Dice Ah guarda c'è una cosa E quindi Uno arriva qui E poi si infine C'è un percorso segreto Dove porterà mai Questo percorso segreto Il percorso segreto Porta qui C'è scritto Grazie Dani Quindi Con la mia spadina in mano Vi ricordo Che se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Se è ancora più iscritti Sto muovendo la spada Come se fossi uno spadaccino Non so niente Se il video vi è piaciuto Lo ritmetto di nuovo Condividete il video Se vi è piaciuto E noi ci vediamo Nei prossimi episodi Ciao 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 ciao